Vince e convince la Vispesaro che nel sabato del Benelli batte la Fermana 2-0 conquistando il derby, la sua prima vittoria casalinga e il primo confortante 0 alla voce gol incassati. Prova solida e corale dei biancorossi in una contesa messa in discesa dopo 10 minuti dal rigore conquistato da Saccani e realizzato da De Respinis e poi messa in archivio nel cuore del secondo tempo dal 2-0 di Gucci trovatosi al posto giusto nel momento giusto per depositare in rete il palo interno colto da astrologo. Per la Vis è una vittoria che dà morale, peso in classifica e sostanza ai miglioramenti del gruppo di banchini. Quando pareggi, e noi siamo stati raggiunti per ben tre volte, meriti di pareggiare, però quando vinci e vinci bene allora bisogna fare i complimenti, quindi complimenti ai ragazzi che hanno fatto una vittoria importantissima perché comunque venivamo da un'altra mezza delusione, quando prendi gol al 94esimo ti lasci sempre delle scorie negative. Questa è una squadra che ha valori, io lo dico dall'inizio e poi ti devo dire la verità, come ti ho detto che il calcio è della gente, quando la mia squadra non vince io soffro e sto male, so che c'è anche altra gente che sta male e però adesso oggi so che insieme ai ragazzi abbiamo reso felici tanti tifosi della Vis e quindi per questo sono contento. Non prendere gol e quindi il clean sheet come si dice è fondamentale, abbiamo fatto delle scelte nelle ultime due partite un pochettino più di equilibrio e penso che questo abbia comunque dato un aiuto alla squadra. Dalla Serie C alla Serie D esulta anche il Fano che si prende i suoi primi tre punti stagionali battendo 2-1 il Castelfidardo al Mancini. Una vittoria firmata dai gol di Torturi al 36esimo e di Casolla al 61esimo. Vano il momentaneo pareggio di Cardinali del Castelfidardo. Due vittorie nel calcio e nel basket spera di aggregarsi alla comitiva anche la VL che con la vitrifrigorena occupata degli europei di ginnastica aerobica e acrobatica ha posticipato a mercoledì sera il debutto casalingo con Trieste. Per quanto riguarda il calcio a 5 l'Ital Service ha perso ai calci di rigore il quindicesimo Memorial Nino Pizza. A espugnare il palafiere è stata la L84 Torino in un match finito 1-1 con Salas a pareggiare il vantaggio ospite di Jonas e i piemontesi ad esultare 4-3 dal dischetto contro la squadra di Colini priva degli argentini Borruto, Bolo, Cuzzolino e Tavorda impegnati in finale ai mondiali di calcio a 5 in Lituania. Dopo il Memorial Pizza l'Ital Service si tuffa nel debutto di campionato previsto domenica alla Sky Arena di Salso Maggiore Terme contro Napoli. Pesaro nel weekend è stata però anche al centro del flag football nazionale. Il campo a scuola ha infatti ospitato il Final Bowl 2021 con gli Angels, organizzatori dell'evento, che hanno chiuso al settimo posto. A vincere sono stati i grifoni Perugia promossi in prima divisione assieme all'altra finalista, i Rinos Milano. Perugia promossi in prima divisione e abolissifoni malessi in prima divisione